Torino e la sua periferia fanno da sfondo la mia difficile adolescenza. Sono Pino, ma tutti mi conoscono come Shagura. Vivo tra la ferrovia i sogni di ogni adolescente. Amo Luisa, anche lei non se la passa tanto bene. La nostra storia è guaio, fuga, sogni. In quel periodo ci sentivamo i padroni del quartiere fino ai suoi confini. Spesso, per ammazzare le giornate grigie di novembre, saltavamo il fossato al bordo della ferrovia e camminavamo lungo le rotaie del treno. Calpestavamo i ciotoli ludidi che tenevano separate le rotaie e nascondevano le assi di legno bullonate. Le nostre erano passeggiate pazze. Mi sentivo scivolare lungo quelle rotaie infinite, pensando di raggiungere Marsiglia o Parigi. Luisa è sparita e il mio sforzo per ritrovarla sarà la mia strada verso una vita migliore, fuori dai confini della periferia nord della città. Grazie.